Un futuro più equo e sostenibile grazie al lavoro e su questo tema che ruota Terra Futura, la mostra internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità che si terrà dal 25 al 27 maggio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Il programma di questa non edizione è stato presentato nella sede della Giunta regionale attraverso convegni, seminari, incontri e confronti come World's World Web, Parole Pianeta Rete, organizzato dalle Fondazioni Sistema Toscano e Responsabilità Etica, oppure la legalità alla luce del sole del progetto SCORE, Terra Futura vuol denunciare prima di tutto la crescente marginalizzazione del lavoro e quindi delle persone e chiedere alla finanza di tornare a servire l'economia reale innescando una vera e propria riconversione ecologica e sociale del tessuto produttivo. La manifestazione offrirà anche un ampio panorama di buone pratiche di produzione, lavoro e consumo articolate in 13 sezioni tematiche come tutela dell'ambiente, energie alternative, commercio equo, agricoltura biologica, edilizia e mobilità sostenibili, turismo responsabile, solidarietà sociale, cittadinanza attiva. Tra i progetti speciali la borsa delle imprese responsabili e terra futura per la scuola. Presenta la rassegna anche l'organizzazione Medici Senza Frontiere con il Centro Nutrizione, una tensa struttura in cui è ricostruito un percorso interattivo guidato da operatori manitari sulla malnutrizione, malattia che colpisce ogni anno 195 milioni di bambini del mondo e sul business connesso agli aiuti umanitari spesso inutili inviati dai governi occidentali nelle zone di crisi.